Il comitato se non ora quando Vallo di Diano manifesta indignazione e disapprovazione nei confronti di Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano Alburnia e Comune di Sapri che a parere del comitato in quanto enti pubblici non avrebbero dovuto sostenere e cofinanziare la realizzazione e installazione della statua della spigolatrice così come rappresentata dall'artista. Un'opera che è ben luge a parere del comitato da raffigurare l'immagine storica che Luigi Mercantini nella sua poesia La spigolatrice di Sapri ha voluto invece raccontare. Lo scultore, scrivono dal comitato, ci sembra travisare completamente il ruolo sociale della spigolatrice nonché quello attribuitole dal poeta. Abbigliata in una veste così leggera da costituire quasi un velo aderente alle fattezze corporee, la statua denega la realtà caratterizzante e il lavoro tipico di una spigolatrice. Raccogliere residui della mietitura, spiegano, comportava necessariamente indossare abiti pesanti visto il pericolo di sanguinamenti. Atteggiata invece l'attuale protagonista dell'opera scultorea, starlet decorata da alcune spighe fungenti da vere e proprie foglie di fico, a mo' di richiamo al particolare lavoro a Greste, la statua sembra ai nostri occhi rifugire completamente dalla descrizione poetica della spigolatrice fatta da Mercantini. A tal proposito ripropongono anche il commento della storica d'arte Chiara Savettieri che esprimendosi sull'opera evidenziato la spigolatrice è una donna umile e coraggiosa che sposa la causa anti-borbonica e che sfida anche la consuetudine per cui gli uomini combattono e le donne stanno a casa. Invece vediamo una pin-up simile a quelle di certe trasmissioni tv che, aggiungono dal comitato presieduto da Rosi Pepe, è lontana dal contesto culturale di riferimento. Una rappresentazione che, a parere del comitato, non doveva essere avallata da istituzioni come l'ente parco presieduto da Pellegrino e il comune di Sapri guidato da Antonio Gentili, ancor più se si tratta di rappresentanti istituzionali che si dicono contrari ad ogni forma di violenza di genere. Riteniamo, scrivono dal comitato, che un'operazione del genere, ossia la versione sexy della spigolatrice, non debba essere avallata dalle istituzioni pubbliche e cofinanziatrici dell'opera, quali il Parco Nazionale Cilento, Valoridiana e Alburni, nonché il comune di Sapri. E' pur vero che la spigolatrice della poesia di Luigi Mercantini è un personaggio di fantasia, continuano dal comitato, ma la sua storia è diversa da quella di una donna con i glutei al vento. Indubbiamente era nelle piene facoltà del sindaco Gentile e della sua amministrazione comunale predisporre una siffatta statua per la cittadina capofila del Golfo di Policastro, ma senza alcun riferimento alla spigolatrice di risorgimentale memoria. Violentarne il ruolo e la narrazione poetica è, a nostro modo di vedere, concludono dal comitato, quel che è accaduto senza sé e senza ma.